Sì, siamo spariti per un po' ed è giunto il momento di raccontarvi cosa abbiamo fatto in questi mesi e che cosa ne sarà di questo canale YouTube. Io sono Giulia, lui è Mess e questa è Alba, la nostra casa. Dopo anni di vita in città abbiamo accolto il richiamo della natura e siamo andati a vivere sulla nostra barca a vela. Iscrivetevi al canale e salite a bordo per un grande viaggio tra le meraviglie della natura ed i luoghi dello spirito. Ciao amici, dopo giorni di meteo invernale oggi è finalmente una bellissima giornata di sole. Sapete, in una bella giornata come questa in realtà nella mia testa qua dietro c'è sempre un campanello d'allarme. Vivendo in barca noi teniamo sempre d'occhio le previsioni meteo e tra meno di 30 ore arriverà una brutta brutta burrasca che si abbatterà su tutta la Sicilia quindi in realtà né io né Mess riusciamo proprio a rilassarci al 100% e a goderci il sole perché sappiamo che nelle prossime ore comunque dovremo preparare la barca per il maltempo che arriverà. È vero che saremo in porto quindi saremo sicuri però ci sono sempre parecchie cose da fare. Da qui vedo il fronte freddo che sta avanzando, c'è proprio un fronte di nuvole che sta pian piano coprendo il cielo. In un secondo sono arrivate grafiche forti, penso che stia arrivando. Io e Mess abbiamo sempre avuto una vita molto produttiva e piena di attività lui come sviluppatore informatico e io come giurista impegnata anche su YouTube e nell'ultimo anno e mezzo ci siamo anche dedicati molto alla cura della nostra casa galleggiante, Alba. Per molto tempo abbiamo vissuto a mille entrambi decisi a raggiungere gli obiettivi prefissati e determinati a conquistare il nostro mondo con disciplina, strategia e controllo. Si può dire che l'energia prevalente nel modo di vivere di entrambi sia sempre stata quella maschile, lo yang, se vogliamo parlare in termini di Tao, quel flusso lucente e caldo come il sole che ha illuminato il nostro cammino verso il successo e quel modo di vivere forte e agguerrito era l'unico che io davvero conoscessi. Tuttavia negli ultimi mesi quella scintilla di determinazione, quella passione per la conquista, si è affievolita. Io personalmente ho sentito di avere meno energia, meno voglia di combattere e mi sono chiesta a cosa fosse dovuta questa mia carenza. Anche il mio rapporto con YouTube è cambiato. Perché non ho più pubblicato video su YouTube? Non perché non avessi nulla da mostrarvi. In questi mesi abbiamo visitato luoghi bellissimi, vissuto esperienze forti in barca e ho filmato molte di queste cose, quindi immagini da mostrarvi ce ne sarebbero molte. Ma il fatto è che io non avrei avuto nulla di vero da trasmettervi. Quando scrivo, registro e monto i miei video, lo faccio sempre partendo da una scintilla di verità che mi sembra discorgere intorno a me o dentro di me e con le immagini e la mia voce provo a portare il valore di questa verità fino a voi. Ma senza quella scintilla di verità, la mia voce non sarebbe che ulteriore rumore in un mondo già abbastanza rumoroso. E quindi in questi mesi vi ho trasmesso l'unico valore del quale disponessi, quello del silenzio. Ed è proprio dal silenzio che ho visto emergere una nuova consapevolezza che oggi mi sento di condividere. Tutti noi, nessuno escluso, in alcuni periodi della nostra vita sentiamo di avere meno forza, meno determinazione e di non riuscire a fare progressi. Spesso più ci sentiamo così e più ci ostiniamo a spremere ciò che rimane della nostra energia fino all'ultima goccia. E nel farlo ci chiediamo anche perché ci sentiamo sempre peggio, per quale motivo ci sembra di essere disconnessi dal mondo che ci circonda. La verità che ho sperimentato su di me e sulla mia pelle in questi mesi è che non possiamo sempre viaggiare alla massima velocità e forse non dovremmo neppure cercare di farlo. Lo so, alla società in cui viviamo importa ben poco delle nostre emozioni e la nostra esistenza è sovraccarica delle aspettative delle persone che ci circondano e soprattutto del nostro stesso ego. È per questo che ci sembra di non poterci mai fermare, di dover sempre correre verso nuovi obiettivi, che si tratti di avanzamento professionale, apprendimento o di essere regolari nella pubblicazione di video su YouTube. E quando non disponiamo di abbastanza yang, cioè di sufficiente energia maschile per conquistare tutti i nostri traguardi, stiamo male e ci sentiamo sempre più disconnessi dal nostro universo e dalla versione migliore di noi stessi. Io in questi mesi per la prima volta ho provato a non ignorare la sensazione di stanchezza, cosa che la versione più giovane di me non avrebbe mai e poi mai pensato di fare. Così quest'inverno ho rallentato il ritmo del mio cammino, mi sono presa del tempo per esplorare l'universo fuori e dentro di me ed è lì che ho avuto l'illuminazione. Siamo ospiti di un pianeta dove a dominare è la continua alternanza degli opposti. Luce e buio, vita e morte, caldo e freddo, tensione e riposo. Specialmente durante i mesi invernali, ma anche in altri periodi della vita, non è raro sentirsi stanchi, scarichi e letargici. Non c'è niente di male, è la natura stessa a confermarcelo. Nei mesi invernali è il buio a dominare, gli alberi sono spogli, gli animali in letargo, la terra è fredda, tutto sembra essere morto. Ma basta aspettare qualche mese per vedere la luce prendere di nuovo il sopravvento sull'ombra, gli animali risvegliarsi e le piante rifiorire. E poi non è che la natura d'inverno non abbia energie, al contrario. E poi non è che la natura di nuovo. E poi non è che la natura di nuovo. E poi non è che la natura di nuovo. Questa è stata la mia grande realizzazione di questi mesi. Quella che la società moderna cataloga come stanchezza, letargia, negatività, è semplicemente un'energia diversa rispetto a quella maschile forte dello Yang. Si tratta della potente energia femminile, lo yin del Tao. È pura sensibilità, gentilezza, compassione, nutrimento spirituale, ma è anche la capacità di ascoltare i propri sentimenti e viverli in modo profondo. Un po' come la natura esprime la bassa pressione e sfoga tutta quell'energia in un uragano. A volte è necessario distruggere per poter ricreare, ma lo yin è soprattutto l'energia dell'inverno e del riposo, ed è tanto importante quanto quella maschile dell'estate e della produttività. Se la terra non riposasse d'inverno, non potrebbe esserci alcuna fioritura primaverile. Se noi esseri umani non ci abbandonassimo all'energia del riposo quando essa dominare in noi, non potremmo creare nulla. Il riposo, il silenzio, la morte momentanea sono indispensabili affinché vi possano essere vitalità, espressione e rinascita. E basta ammirare la natura e la sua ruota dell'anno per averne conferma. Dopo la tempesta è tornata la quiete. La forza distruttiva ha permesso alla calma di rigenerarsi e all'equilibrio di ristabilirsi. E noi, dopo aver vissuto appieno le emozioni più buie, possiamo riprendere il nostro cammino nella luce. E così, quest'inverno e io e Messe ci siamo immersi nel ritmo della natura. Abbiamo ascoltato il battito lento del suo cuore e sincronizzato il nostro con il suo. Abbiamo accettato di essere meno produttivi e ci siamo lasciati andare a quella che per noi è stata la stagione del riposo. Abbiamo imparato ad apprezzare il buio quando il sole calava presto e l'alba tardava ad arrivare. E buio e riposo ci hanno portati al silenzio, almeno qui sulle piattaforme online. Quello che facciamo qui è creare esperienze, immagini, pensieri e parole. E la nostra missione è quella di creare e condividere, solo quando la nostra creazione ha un significato profondo per noi, nella speranza che quel significato possa arrivare fino a voi. Ma senza quella scintilla di significato all'origine del nostro atto creativo, la nostra voce sarebbe soltanto rumore in un mondo già troppo rumoroso. Ed è per questo che talvolta preferiamo rimanere in silenzio. Scegliamo di fare come il nostro pianeta d'inverno. Facciamo riposare la Terra, affinché essa sia pronta ad accogliere nuovi semi. Ed è da quei semi che le nostre nuove creazioni potranno nascere e crescere rigogliose. Certo, non è stato facile arrendersi al ritmo della natura e alle nostre sensazioni che reclamavano il riposo. Il nostro ego è sempre pronto a ricordarci cosa dovremmo fare e cosa la società si aspetta da noi. Ma dopo tre mesi di silenzio, siamo certi di aver fatto la scelta giusta. La stagione buia e fredda ha preparato la strada per la rinascita. I nuovi semi che abbiamo piantato nella Terra rigenerata stanno iniziando a germogliare e presto fioriranno in nuove avventure e creazioni che non vediamo l'ora di condividere con voi. Alba è quasi pronta per una grande partenza. Anche lei è una nuova Alba, generata dal sole e carica di energia, pronta a solcare i mari di questo meraviglioso universo. Non perdetevi il prossimo episodio, in cui ci prepareremo per un grande viaggio e saluteremo la Terra che a lungo ci ha ospitati. Grazie a tutti.